ciao bestioline oggi un video un po diverso infatti sono sul letto allora tempo fa avevo comprato un set per poter fare delle gomme da cancellare e oggi volevo farvi vedere i miei primi esperimenti allora quelle più semplici sono queste queste qui a rotellina un po di glitter e sono quelle diciamo più semplici poi ho fatto questa a forma di micetto che è carinissima poi vediamo questa qui che però non mi è venuta molto bene infatti se potete notare qua e anche qui ci sono delle imperfezioni però è carina lo stesso mi piace poi questa gommina a forma di biscotto che secondo me è carinissima due o mini biscottini non mi piace tanto questo po arancione a parte che come sempre il mio telefono l'arancione lo fa vedere smortissimo invece è un arancione sopra acceso poi ho fatto dei cupcake che sono bellissimi andate qua fantastici e tra l'altro cancellano veramente bene io pensavo che questo set fosse una boiata invece invece cancellano davvero perché si vedono così male colori come sempre i miei video sono accampati bellissimi un cono gelato anche questo carinissimo carino carino e per ultimi abbiamo dei pesciolini letterati da questa parte guardate che carino fuoco questo poi abbiamo questo qui arancione allora il glitter mio mandano in palla al telefono questo qui che è più sul rosso che ovviamente non si vede il rosso tanto per cambiare ma fidatevi di me è rosso e poi questo qua che è è bellissimo ed è sui toni del viola ok eccolo qua è una cosa stupenda questo pesciolino bene le mie gommine sono tutte qua se volete vedere un video dove vi faccio vedere come si fanno queste gommine fatemelo sapere ciao e alla prossima